Sono qua per presentare una relazione in particolare sul progetto europeo Stepping, un progetto cofinanziato dal programma Interregmed che vede il coinvolgimento di nove partner dell'area del Mediterraneo che rappresentano sette paesi europei che si trovano insieme in questo progetto per cercare di sviluppare e attuare dei progetti di riqualificazione energetica su edifici pubblici mediante il ricorso ai contratti EPC. La giornata di oggi è molto interessante perché consente di scambiare esperienze e condividere dettagli sulle nuove procedure amministrative che sono legate all'attuazione di questi piani e come Regione Piemonte ci siamo avventurati nella realizzazione di investimenti per l'efficienza energetica utilizzando gli EPC già in passato, in particolare in altri progetti europei come per esempio 2020 Together che sarà oggetto del mio intervento e cerchiamo di replicare le esperienze che portano a realizzare interventi che in assenza di investitori privati che vengono coinvolti tramite questo tipo di contratti non si potrebbero realizzare sul territorio.